Buon lunedì 4 ottobre. I miei auguri di buon namastico a tutte le Franceschi e i Franceschi che si riconoscono nella figura di Francesco D'Assisi. O Signore, fai di me uno strumento della Tua pace. Dove è odio, fa che io porti amore. Dove è discordia, fa che io porti la fede. Dove è l'errore, che io porti la verità. Dove è la disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto. Ad essere compreso, quanto a comprendere. Ad essere amato, quanto ad amare. Perché se è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati. Morendo che si risuscita a vita eterna. Amen. Preghiera semplice di Francesco, che si salda molto bene col Vangelo di oggi, che esprime un pensiero straordinariamente attuale da parte di Gesù che loda il Padre per aver svelato ai piccoli le grandi cose, è tenuto nascosto agli eruditi. Ha illuminato i piccoli, i deboli, i fragili, l'innocenza dei bambini e naturalmente ha tenuto nascosto il senso stesso della verità, ai dotti. a coloro i quali si palesano come i supponenti del sapere. Anche dentro le fedi oggi c'è una tendenza a sottomettersi a una scienza che ha perso il gusto del dubbio, dell'umiltà. Vedete, anche nel campo scientifico oggi c'è bisogno che gli scienziati si facciano piccoli per accogliere quella verità nascosta che è nel mistero, che grandi scienziati nel passato facendosi piccoli hanno imparato a scrutare con attenzione, con senso della contemplazione e con consapevolezza del mistero stesso. Venite voi tutti che siete affaticati e oppressi, così dice Gesù, e invita a sottomettersi al suo gioco che è un gioco d'amore non di dominio mondano. È nel Vangelo di oggi e nella essenza della giornata di oggi che è dedicata al messaggio imperituro che Francesco nella sua mistica concreta seppe portare all'umanità. Troviamo un'occasione per operare una svolta che non accada solo nella giornata di oggi ma che ci spinga verso quella prospettiva di farci umili e piccoli indipendentemente da ciò che noi facciamo e siamo indipendentemente dall'età. Ricoltiviamo il senso stesso della fragilità che vive in noi, della semplicità che è in noi. Non offuschiamo tutto questo e accogliamo il gioco di Gesù che è richiesta di conversione, richiesta di percorrere con perseveranza la strada di una testimonianza che mette in luce la via della salvezza che non è nostra ma risiede nel riconoscimento dell'appartenenza a un mistero che è sicuramente molto più grande di noi. Buona giornata a tutti.